Per lei mega festa come richiede la circostanza. Con favolosa cornice piscina in villa a Milano. Molti amici pronti per andare selvaggia. Fiori e torta scenografica. Il DJ si è smesso eccitato accanto a sua figlia. Il presentatore ha schiacciato la sua ragazza ora fantastico in un abbraccio molto dolce e sui social media ha condiviso i momenti più belli. Per Federica Panicucci e Mario Fargetta è una grande festa Sofia Fargetta. La loro primogenita. Ha compiuto 18 anni. Federica Panicucci. Dream holidays in The Maldive con Marco Baini. Federica Panicucci era bellissima e molto elegante. In un lungo abito scuro che sottolineava la sua figura lunga. Ma questa volta vendette volentieri i riflettori a sua figlia Sofia. Una vera regina della festa. Anche incantevole nel suo abito di abiti da corallo. Io. Ti amo per la meravigliosa ragazza che sei stato. Per la dolce ragazza che sei diventato. Per l'incredibile donna che diventerai. E ora. Prenditi la vita in mano e fai un capolavoro. Ha scritto il presentatore su Instagram da condividere i momenti più belli della serata con i. Seguaci e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderlo speciale. La storia d'amore tra Federica Panicucci e Mario Fargetta. Federica Panicucci e Mario Fargetta erano. Una delle coppie iconiche degli anni 90. Si sono sposati nel 2006 e hanno avuto due figli. Sofia nata nel 2005 e Mattia due anni dopo. La separazione con un comunicato stampa. Dopo molti anni. La loro relazione è serena e rilassata. Anche per il bene dei bambini a cui entrambi sono molto vicini.